Oggi abbiamo parlato di cultura, di territori, di quanto siano anche importanti i blog a raccontare le storie di donne, ma non solo ovviamente, le storie del territorio. Quindi il mio contributo di oggi per questo panel per Glocal è stato proprio questo, quindi raccontare il territorio e la cultura attraverso il nostro blog.